Sì, abbiamo registrato la seconda giornata, abbiamo registrato le tastiere, le chitarre... Tassieri no! No, le tastiere no, le tastiere non ce ne sono. L'organo, il box... Antonio ci racconterà cosa hai registrato. Antonio, cosa hai registrato? Un box continentale del 66, il fratellino è il primo organo a transistor, che era il box continentale, l'uguale però ad una sola tastiera, invece questo ne ha due. Veramente bello! Mi ha sorpreso, non lo ricordavo così bello. Mi ha veramente sorpreso, si sente anche. Bello, bello. Sì. Domani ci prendiamo una pausa, iniziamo a fare un pochettino di montaggio video per tutto quanto quello che stiamo iniziando a farvi vedere tramite i nostri canali. social network vari. E' venuto a Paunina a farci visita. Sì. Io sono arrivato oggi e devo dire che tutto sta tornando fuori alla fila. Bello. Bello. Dai a chiudere qualcosa di... Tecnicamente oggi è stato dato tutto riccio, siamo divertiti a sentire chitarra e... Ci siamo diventati più di ieni oggi. Grazie a spedito organo di Antonio. E poi va bene. Niente, volevamo fare un saluto a Giambo che comunque ci sta seguendo. E poi aspettiamo che domani ci raggiungano il resto della truppo. Quindi, buce umani. E le chiacchiere? Le chiacchiere di stintino. Le chiacchiere di stintino. Le chiacchiere di stintino.